È stato aggiornato a lunedì 10 dicembre il processo sul caso della morte di Martina Rossi, la studentessa morta il 3 agosto 2011, precipitando dal sesto piano di un hotel a Palma di Mallorca. Ieri il PM Roberto Rossi ha chiesto sette anni per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due imputati accusati di tentata violenza e morte in conseguenza di altro reato. I legali Stefano Buricchi e Tiberio Baroni, che difendono rispettivamente Vanneschi e Albertoni, parleranno lunedì prossimo, puntando tutto, come è accaduto fin dall'inizio del processo, sull'ipotesi del suicidio della giovane studentessa. I due ragazzi non sono mai comparsi in aula, ma, dice uno dei legali, ormai da anni vivono sotto una pressione mediatica insopportabile. In questo momento in realtà la presenza in aula non deve essere intesa come un senso di disinteresse per una tappa della vita che, ovviamente nella vita del mio assistito, oserei dire che è fondamentale, ma semplicemente un sottrarsi a un clamore mediatico che questi ragazzi vivono dal 2011. Perché ricordiamoci che di questi ragazzi dal 2011 è stato fatto scempio praticamente sui giornali e su MySmedia, tutto basato assolutamente a nostro sommesso avviso sul nulla, anzi, non a nostro sommesso avviso, con sicurezza questo lo dico.